Allora, altezza, quindi l'altezza spesso è una delle poche cose che riusciamo a catturare su un sistema di risorveglianza, e quindi ce ne sono diversi tipi di altezza, che vedete un po' riassunte qui, quello che a noi interesserebbe è la statura, perché spesso e volentieri può essere determinante. In alcuni casi può anche essere utile associare all'altezza anche qualche informazione sulla corporatura, in longilinea, robusta o meno. Perché però tutto c'è un problema? Perché tutte queste informazioni devono essere prese, tra virgolette, con le pinze? Devono essere prese con le pinze perché dobbiamo sempre ricordarci che noi analizziamo un'immagine che si trova qui e che è stata quindi ottenuta attraverso un processo di campionamento lungo una prospettiva. Quindi noi partiamo dal mondo 3D e invece andiamo ad analizzare le informazioni sul mondo bidimensionale. Che significa questo? Che dobbiamo stare attenti alle cosiddette proiezioni. In questo caso probabilmente voi non sentite il video, però vi faccio vedere questo video che trovate su YouTube che ci fa capire come il nostro occhio si faccia ingannare facilmente dalla prospettiva. Ora in questo caso le immagini sono create ad hoc, proprio per dimostrarci come il nostro cervello da questo punto di vista si fa ingannare. Però in situazioni reali in cui dobbiamo prendere misure di oggetti che hanno a che fare con la scena non possiamo sbagliare. Quindi che significa? Che quando io vado a calcolare l'altezza di un soggetto non posso fare a meno di utilizzare in maniera scientifica la geometria della scena. Quindi se la geometria della scena mi consente di fare certe misure allora procedo. In parte alcune di queste cose le avete viste sia nell'esercitazione con il DVR sia con l'esercitazione che avete fatto con il dottor Fontani l'altro giorno. Il problema quello che sta è che se io ho una situazione di questo tipo posso pensare di realizzare una sorta di pre-processing, cioè posso pensare di tornare sul posto e sfruttare la geometria della scena. Che significa sfruttare la geometria della scena? Capire che per esempio in questo caso abbiamo un piano e abbiamo delle linee di fuga che in qualche modo vincolano il modo in cui la prospettiva sta cambiando, ok? Quindi se io conosco fondamentalmente l'altezza di queste porte nella scena reale, ok? Attraverso diciamo queste linee di fuga che mi stanno modellando la prospettiva posso chiedere agli algoritmi per esempio che trovate in Amped di misurare alcune delle evidenze che a me servono, come per esempio l'altezza del soggetto, ok? Quindi prima informazione fondamentale per poter fare delle misure su una scena è necessario che la scena sia tra virgolette come diciamo noi strutturata, cioè siano presenti almeno i tre piani x, y e z abbastanza evidenti su cui io poter sovraimporre tra virgolette delle linee che corrispondono alle linee tra virgolette di fuga, ok? In questo modo io, vedete qui, posso andare a prendere un soggetto e stimare la sua altezza in funzione di altezze note che sono presenti nella scena, ok? Per esempio in questo caso si sta cercando di calcolare l'altezza di questo soggetto tenendo conto della stima dell'altezza della porta, ok? Però in tutto ciò va considerato che è possibile commettere degli errori. Quello che vedete qui è un altro esempio di misura che viene fatta sulla scena in cui si ritorna sul posto, quindi l'obiettivo in questo caso era misurare l'altezza di questo soggetto, in questo caso è un'immagine fatta apposta per scopi didattici. Quello che si tenta di fare successivamente è tornare sul posto e utilizzare un'asta metrata, ok? Da posizionare esattamente nella stessa posizione in cui si trovava il soggetto e utilizzare questa poi in blending, ok? Per fare in modo di avere dei riferimenti metrici sul soggetto stesso. E' chiaro che questa operazione è molto pericolosa, molto pericolosa perché difficilmente io riesco a rimettermi nelle stesse condizioni di acquisizione precedenti, però quando il sistema di videosorveglianza non è cambiato si può pensare di realizzare situazioni di questo tipo. Però bisogna sempre essere attenti. Questo è un caso reale, che non so se vi ho fatto già vedere, però diciamo casomai lo ripetiamo perché è molto istruttivo da questo punto di vista. Allora questo è un soggetto che veniva, di cui si conoscevano le altezze reali, ok? O meglio, si conoscevano dalle relazioni tecniche, ok? E in particolare queste erano le misure che vengono riportate dal consulente che poi ha eseguito questi calcoli. Quindi non avendo a disposizione il soggetto per poterlo misurare, il consulente che è tirato fuori da cui è tratta questa relazione ha estrapolato dall'immagine e dalle misure reali del soggetto l'altezza alla spalla, ok? E quindi di conseguenza l'altezza alla spalla capo, ok? Questa informazione in questa consulenza, era una consulenza del PM, in questo caso era importante perché c'era un'immagine di videosorveglianza, di intercettazione in realtà, che era particolarmente brutta, in cui si vedeva solamente la parte superiore del corpo. E quindi con lo scopo di tirare fuori una qualche misura di compatibilità, il consulente ha pensato di sfruttare l'altezza spalla capo per verificare se fosse o meno compatibile con le informazioni che venivano dalle immagini di videosorveglianza. Questo lavoro come è stato fatto? È stato fatto prendendo quindi, facendo una semplice proporzione, quindi prendendo l'altezza del soggetto che era nota, ok? Che in particolare era 177,5 con le scarpe della ginnastica, misurando il numero di pixel che ci stanno dalla scarpa al capo, ok? Misurando il numero di pixel che ci stanno dalla scarpa alla spalla, ok? E facendo una semplice proporzione. Tutto sommato il ragionamento non fa una piega. Se tutto il soggetto è alto 1,77, ok? Mi misuro e qui ci sono x pixel, ok? Mi guardo a calcolare quanto sono i pixel che stanno qua e mi calcolo la proporzione. Facciamo? Che vi dite? Che mi dite? Funziona questo ragionamento o no? O c'è qualcosa che non va? Con questa semplice proporzione il consulente dichiara che l'altezza scarpe, diciamo, spalla è di 1,30 e quindi di conseguenza la spalla in formità del capo è di 43 cm, ok? Questo è il ragionamento che sembra filare, in realtà ha un bago enorme. Il bago enorme che ha è che la ripresa non è ortogonale al piano, cioè la foto non è ortogonale al piano di ripresa. Vedete che è presa dall'alto? Lo si vede dal fatto che io vedo esattamente come se inquadrassi dall'alto le scarpe, ok? Questa cosa provoca anche in un'immagine di una semplicità estrema come questa un errore impressionante, impressionante. Non solo, ma il poi perito del giudice che a sua volta analizzò questi dati è andato a calcolarsi, a cercare le statistiche medie della popolazione rispetto proprio all'altezza spalla cranio e ha trovato che nel 95% dei soggetti della popolazione italiana scientificamente nota, l'altezza corporea, quindi la differenza tra l'altezza corporea e l'altezza cromiale, che è appunto questo punto che lui andava a cercare, è di circa 30 centimetri, ok? E quindi quel valore che lui ha tirato fuori era completamente fuori range fisico, quindi non esistono sostanzialmente i soggetti che hanno un'altezza o una testa così grande, grossa, da avere 43 centimetri di altezza, quindi completamente una misura errata, una misura errata. Quindi di conseguenza stiamo attenti, stiamo attenti. Amped 5 presenta una serie di tool che consentono la misurazione 3D, ok? Come funzionano questi tool? Praticamente riescono a realizzare una stima della profondità nel momento in cui esiste i tre assi cartesiani e quello che vedete in questi esempi sono situazioni in cui i colori verde, rosso, verde, arancione e blu, corrispondono agli assi cartesiani dei tre assi, ok? Quindi x, y e z, che vengono tracciati sull'immagine con l'apposito tool di Amped. Dopodiché, una volta che io individuo gli assi, sto praticamente dicendo al software come mi vale la prospettiva sulle tre direzioni, posso prendere una misura nota nella stessa direzione della distanza ignota. Per esempio, in questo caso abbiamo preso l'altezza del libro, in questo caso abbiamo preso l'altezza del fan coil, in questo caso abbiamo preso l'altezza del calendario, in questo caso abbiamo preso l'altezza della scatoletta del gesso, ok? E fatto ciò, si tira una linea rispetto alla misura che si vuole utilizzare e l'algoritmo utilizza una stima, riesce a tirare fuori una stima dell'altezza, comunque una stima della misura in 3D, che tiene conto della prospettiva, ok? Questo ragionamento lo si può applicare bene, però è necessario che vengano a, diciamo, apposte con moltissima cura le linee di fuga che hanno come riferimento gli assi. Se nella scena non sono presenti queste linee di fuga dei tre assi, questa misurazione non è ovviamente possibile, è ovviamente possibile. In un caso reale, questo è quello che si potrebbe pensare di fare, cioè se io devo misurare l'altezza di questo soggetto, cosa posso fare? Ritorno sulla scena, la riacquisisco, aggiungo manualmente le cosiddette linee di fuga e a quel punto, prendendo per esempio come riferimento che non so l'altezza della vernice oppure l'altezza della porta, posso pensare di ottenere una certa stima dell'altezza con un certo grado di incertezza. Questa è proprio l'interfaccia Amped che posso utilizzare per questa cosa. E come vedete anche in questo caso i colori sono corrispondenti ai vari assi che io introduco nella scena. Quindi in questo caso abbiamo quella blu che corrisponde all'asse a terra, poi abbiamo quell'arancione che è messo sia qui che qui, quindi mi sta facendo cambiare la forma in questa direzione e poi abbiamo quello verde che è orizzontale. A quel punto viene fissata una misura nota e si chiede quant'è quest'altra qui. Attenzione che quando si applicano scene di questo tipo o questo tool di questo tipo, bisogna stare molto attenti a come si piazzano i punti di inizio e di fine del segmento che voglio misurare, perché anche piccole variazioni possono impattare sulla misura e quindi è buona norma ripeterlo più volte o farlo ripetere a più operatori, ok? E soprattutto in fase di redazione di una consulenza tecnica descrive esattamente il grado di incertezza che questa misura può comportare, perché se io realizzo una misura che è lativa all'altezza, che ha un'incertezza di 5-10 centimetri, capite bene che ha meno forza rispetto a dire che io ho un'incertezza di 1-2 centimetri o che, perché chiaramente diciamo la situazione può cambiare. Questa è una situazione invece in cui, reale, in cui dovevamo fare nel nostro laboratorio delle misure di altezza. Queste misure di altezza non sono state, non sono state, non erano inizialmente possibili, perché nella scena non erano presenti dei riferimenti 3D opportuni, ok? Questi riferimenti 3D opportuni invece sono stati aggiunti successivamente. Quindi siccome il sistema di videosorveglianza era rimasto inalterato, siamo tornati sulla scena, abbiamo aggiunto degli elementi caratteristici, questi pattern che trovate qui, che sono diventati praticamente gli assi X e Y che noi cercavamo, ok? A quel punto si è potuto utilizzare il tool di Ampad con degli attori di prova per verificare che il sistema fosse in qualche modo calibrato opportunamente. Una volta che il sistema è stato calibrato opportunamente e quindi, diciamo, abbiamo ottenuto la variazione della profondità rispetto a questa scena, è stato poi possibile applicare lo stesso setting alle immagini che avevamo in quel momento, a cui ci veniva chiesto di calcolare le altezze, ok? Quindi vedete, se osservate queste immagini in basso, ritrovate il quadrato che avevamo utilizzato qui per individuare gli assi, che era stato fatto attraverso un pattern che era stato stampato opportunamente, di dimensioni opportune, per riuscire a fare questo tipo di ragionamento. Chiudiamo questa parte con un ragionamento che facciamo rispetto a un nuovo modo che sta prendendo piede in ambito giudiziario, nel raccontare, tra virgolette, le evidenze rispetto alle similitudini di evidenze biometriche o meno. Rispetto a prima, in cui noi avevamo solamente quattro gradi di giudizio, qui vedete che abbiamo diversi valori. Abbiamo una scala, tanto tutto simmetrica, che va da più 5 a meno 5 e che misura il grado di forza che un'evidenza ha rispetto alla possibilità che la traccia appartenga al sospettato o meno, ok? O non ci appartiene. Per ottenere questa scala e ottenere questi numeri, si cerca di utilizzare un po' di statistica, o che è possibile. Non vi darò i dettagli delle formule, però quello che vi voglio fare vedere è questo esempio che è chiarificatore di questi aspetti. Allora, piuttosto che noi fornire ogni volta l'altezza e la sua relativa incertezza, che ha un valore come evidenza, che però al giudice potrebbe non essere sufficiente, quello che si vuole fare vedere qui è quello che succede quando supponiamo di avere un'immagine di videosorveglianza, a quale applichiamo delle tecniche varie e riusciamo a avere con vari metodi delle stime. Vedete, abbiamo delle osservazioni, quindi abbiamo un 81 con una certa incertezza, un 81 con 5 e così via, ok? Proprio di che abbiamo un sospettato, la cui altezza è nota, che ha una misura di 1,82. A questo punto dobbiamo stare attenti, perché la forza di questa evidenza e quindi della, diciamo, disferenza tra la misura dell'altezza di questo soggetto e quello di quello che appare nella videosorveglianza assume rilevanza diversa a secondo che la popolazione di riferimento sia la popolazione mondiale o la popolazione degli olandesi. Perché dico questo? Perché mentre la popolazione degli olandesi, nel caso in questione, è mediamente 1,83, ok? La popolazione mondiale è mediamente 1,73. Quindi di conseguenza questo tipo di misura che noi abbiamo tirato fuori dalle osservazioni, ok? A seconda che io mi riferisca alla popolazione mondiale o alla popolazione degli olandesi, assume più o meno forza, ok? Cioè nel caso degli olandesi è quasi, diciamo, ininfluente, perché, diciamo, è molto vicino alla media della popolazione, ok? Nel caso della popolazione mondiale assume una forza maggiore proprio perché è nettamente differente dalla media. Quindi l'obiettivo di questo tipo di analisi è quello di tirare fuori dei numeretti, questi 32, questo LR che erano quelli che erano presenti prima, che mi dicono la forza della mia evidenza rispetto alla popolazione, ok? Quindi al di là di cosa significano i singoli numeri, possiamo notare che nel caso in cui ci si riferisca alla popolazione degli olandesi, la forza di quell'evidenza è necessariamente più bassa, proprio perché mediamente ci si avvicina alla media della popolazione. Invece se ci riferiamo a una media di popolazione più bassa, quei numeretti salgono verso l'alto e l'evidenza, quindi la likelihood di avere qualcosa di importante cresce, cresce. Per poter fare ciò e utilizzare questa strategia è necessario che io conosca prima le statistiche della popolazione, ok? Se io conosco le statistiche della popolazione come può essere per l'altezza, allora posso applicare questo ragionamento. Nel caso dei volti, per esempio, non è così noto come la gente cammini e come la gente, diciamo, come si distribuiscono nei volti le varie caratteristiche, per cui quel tipo di analisi non la si può ancora applicare, però è in quella direzione che necessariamente bisogna andare. Ok, nelle slide trovate anche qualche informazione legata all'altezza, all'altezza, alla gate, e vi faccio semplicemente, ve le lascio per lettura, però vi faccio vedere questo esempio, un altro esempio reale, con il quale abbiamo lavorato nel nostro laboratorio, in cui avevamo questa evidenza, immagini veramente molto difficili da elaborare, in cui avevamo diversi soggetti che passavano lungo questa strada, fra cui il probabile assassino di un omicidio avvenuto a Livorno qualche anno fa. Chiaramente caratteristiche antropometriche nulle, diciamo così, altezza poco affidabile, perché vedete questa è la dimensione dei pixel, quindi rispetto a quello che dicevamo prima, riuscire a calcolare un'altezza affidabile qui è veramente impossibile, nel senso che basta sbagliare un pixel nell'apposizionamento, per cui la stima diventa veramente inaffidabile. In questo caso abbiamo realizzato un esperimento in cui andavamo a misurare praticamente la periodicità dei passi, ok? E dei vari soggetti che andavano a passare per quella strada, ottenendo una evidenza debole, ma comunque significativa, rispetto all'identificazione del soggetto che stavamo cercando, rispetto a tutti quelli che a quell'ora passavano in quel momento. Poi non è stato sufficiente, perché non c'erano probabilmente altre prove, però insomma il tentativo che abbiamo fatto, al limite dell'impossibile, è stato quello di analizzare questo tipo di evidenze. Ok, conclusioni su questa parte, chiaramente quali sono? Che bisogna andarci molto cauti, spesso e volentieri conviene, se è possibile, ritornare sulla scena e rifare delle misurazioni, qualora il sistema di videosorveglianza sia rimasto lo stesso, e quindi procedere allo stesso modo, con i tool opportuni. C'è una domanda, nel caso delle immagini, ma anche la voce potrebbe identificare un soggetto? Chiaramente anche la voce è una delle caratteristiche antropometriche che può essere utilizzata. Il problema è che, come le immagini, riuscire a catturare campioni puliti di soggetti di cui si vuole fare l'identificazione non è semplice, perché anche le intercettazioni ambientali, spesso e volentieri, poi presentano delle anomalie lato rumore. E sulla voce è particolarmente complesso perché esistono delle tecniche di identificazione che si basano fondamentalmente sull'analisi dello spettro di quelle che vengono chiamate le formanti, che sarebbero le vocali. Quindi sono quelle che bisogna isolare nell'audio e analizzare lo spettro, tra virgolette, un numero sufficiente di formanti da confrontare con quelle del campione. Certo, anche lì c'è un mondo intero dedicato a quell'altro aspetto, dove le linee guida di massimo sono le stesse. Ovviamente le tecniche di analisi sono diverse. Ok, allora parliamo di prove in itinere. Parliamo di prove in itinere. Allora, la mia idea è questa. La mia idea, come vi dicevo, è quella di darvi, assegnarvi una... innanzitutto possono partecipare solamente coloro che hanno superato la prima prova. Tutti gli altri saranno, tra virgolette, costretti a realizzare la cosiddetta prova completa. La cosiddetta prova completa prevede un esame scritto che si terrà nei giorni dell'esame, almeno per il primo appello si terrà su Teams, ok? E consisterà in un compito in cui ci saranno domande e risposta multiple e domande e risposta aperta. Nei prossimi giorni, dopo che finiamo il corso, verrà pubblicata una prova tipo, che può consentirvi di esercitarla, su tutti gli argomenti del corso. Dopodiché, alla fine di questa... nel momento in cui si consegna questa prova, io la correggerò, e lo studente può decidere o di accettare il voto, oppure di realizzare una prova pratica o qualche progettino che gli consente di incrementare il voto, che però è opzionale. Tutti gli altri, che dovreste essere la maggior parte di voi, sarete chiamati a realizzare una consulenza tecnica. Una consulenza tecnica su questa traccia, che a breve pubblicherò sul sito. Questo è il quesito, quindi a tutti gli effetti siete chiamati ad essere dei consulenti tecnici reali. Allora, leggiamo insieme il testo. Allora, facendo riferimento al filmato video XX, dopo vediamo come andarlo a calcolare, il CT, che fareste voi, proceda all'acquisizione forense del filmato e all'analisi del contenuto. Quindi significa che questo video deve essere acquisito. A tal fine, per l'analisi del contenuto, si proceda utilizzando tecniche di image video forensics, al fine di verificarne l'integrità ed estrarre tutte le informazioni utili per individuazione di luoghi, veicoli e di eventuali soggetti presenti nella scena. Si ricostruiscono inoltre le dinamiche degli eventi. Quindi il quesito vi dice di prendere questo filmato, questo è la vera provenitina, anche perché il quesito è uguale per tutti. Riferisca il consulente tecnico ogni altra circostanza utile ai fini di giustizia. Procede il consulente a depositare l'azione scritta, accompagnata dai filmati esplicativi e dalle immagini più significative, a sostegno delle conclusioni raggiunte. Quindi a tutti gli effetti è un quesito tipico di un PM che vuole capire che cosa è successo in una scena. Vincenzo Disca mi chiede, per gli esami di luglio si potrebbe pensare di decidere di togliere completamente gli esami su Teams oppure a sfiancarli a una modalità in presenza? Sì, stiamo aspettando indicazioni. Io spero veramente proprio di abbandonare Teams, non perché non mi piaccia, però francamente non ne possiamo più di fare lezioni in questo modo, neanche esami. Quindi diciamo il primo appello, la sessione di giugno si farà così. Per i successivi appelli aspettiamo indicazioni e spero di poterle fare in presenza, in aula. Allora, intanto siamo a prescindere da come fare, spero sia chiaro il quesito, viene fornito un video, questo video va acquisito, probabilmente questo video si troverà su una pagina web, ok? Quindi questo video andrà acquisito con le best practices di acquisizione di pagine web, ok? a quel punto si ha il video e si deve analizzare questo video e tirare fuori tutte le informazioni utili per l'individuazione di luoghi, veicoli ed eventuali soggetti presenti nella scena, ok? Si deve raccontare quello che è successo. Attenzione, vi fornirò, spero oggi stesso, delle relazioni di esempio dei vostri colleghi dell'anno scorso. Così voi potete, diciamo, prendere spunto su quello che effettivamente bisogna fare. Importante, c'è scritto anche dopo, non verrà valutato tanto che cosa riuscite ad estrarre, perché in alcuni casi le immagini sono talmente brutte, ok? Per cui la targa non si può prendere, le altezze non si possono catturare, ma a me interessa che voi riusciate a impostare il lavoro in maniera professionale, mettendo all'interno della relazione, tutti gli elementi tipici della relazione, ricordate abbiamo fatto una lezione su questo, quindi il quesito, l'introduzione, le premesse, l'acquisizione, l'analisi, le conclusioni, gli allegati, cioè dovete creare effettivamente una relazione che sia professionale a tutti i punti di vista, non deve mancare nulla, ok? In più, se riuscite a estrarre informazioni interessanti, il numero di targa, i soggetti, il volto va bene, altrimenti va anche bene dire, se ci sono gli elementi, che non è possibile estrarre informazioni perché la qualità delle immagini è particolarmente limitata, ok? E' lì che sta poi la capacità del consulente, riuscire a dire quando qualcosa non è possibile estrarre. Se utilizzate però delle tecniche, dovete utilizzarle bene, ok? Cioè, se volete utilizzare una estrazione di caratteristiche 3D, come abbiamo visto oggi, la scena deve essere strutturata, cioè ci devono essere i tre assi, se lo fate senza che ci siano i tre assi, quello è un errore e vi penalizza, ok? Se manca nella valutazione, voglio dire, se manca un pezzo nella relazione, questo vi penalizza, cioè se non scrivete il quesito, vi penalizza, se non scrivete le conclusioni, sarete penalizzati, cioè questo è il tipo di correzione che io andrò a fare. Andiamo nel dettaglio, ok? Come determinare il video che andrete ad analizzare, ok? Utilizzeremo uno strumento, una metodologia simile a quella che ho usato per la prima prova, per fare in modo che ognuno di voi in qualche modo abbia un video diverso dall'altro. Quindi il video XX, come lo trovate? Viene determinato dalle ultime due cifre del proprio numero di matricola, ok? Qualora ci fossero degli studenti iscritti come corso singolo, basta utilizzare le ultime due cifre del proprio anno di nascita. Scusate un attimo. Allora, come andare a calcolare questo video? Trovare questo video? Ci sarà un file che verrà messo nella cartella del materiale del corso, che sarà un file Excel in cui troverete elencati degli indirizzi web da cui scaricare dei video numerati. Quindi ognuno di voi, in base alle ultime due cifre del proprio numero di matricola, individua il file da andare a scaricare. Il testo della prova ve lo pubblico già adesso, così puoi cominciare ad organizzare. La mia idea è quella di rendervi disponibile il materiale necessario alla prova a partire dalle ore 11 di venerdì. Quindi alle ore 11 di venerdì, 12 giugno se non ho sbagliato, voi troverete il file X, questo file Excel e quindi potrete cominciare a lavorarci, ok? Per la consegna dovrete depositare una copia in PDF della relazione nella cartella che io andrò a creare sul sistema, che si è chiamata seconda prova in linea. Avrete circa una settimana, quindi la scadenza è, so, è fissata alle ore 21 di giovedì 18 giugno, quindi quasi una settimana di tempo per realizzare questo lavoro. Il file, attenzione qui, dovrà essere denominato previa esclusione dalla prova, con la notazione numero di matricola, underscore cognome, underscore nome, così mi risulta poi facile andarlo a individuare, ok? Altra consegna importante da mettere in atto, sempre dentro la cartella seconda prova in itine, troverete un file Excel in cui dovrete registrare la consegna. La consegna consisterà nel compilare una riga, in cui ci mettete, troverete nome, cognome, numero di matricola, ok? E soprattutto voglio che scriviate nell'apposito campo il codice hash del file, PDF. Quindi significa che in questo modo mi certificate l'integrità del file consegnato, ok? Ecco esattamente, le date le ho appena scritte, gli allegati non li consegnate, ok? Ma saranno oggetto di discussione, ok? Cioè la valutazione in che cosa consisterà, che io vi comunicherò in tempi brevi, spero, tutte quelle che sono almeno sufficienti, ok? Quindi quelle che non sono sufficienti, pazienza, dovranno, non hanno superato la prova e dovranno fare la prova completa. Tutte quelle che sono sufficienti, ehm, saranno oggetto di colloquio in cui si discuterà anche degli allegati, ok? Verranno fatti dei turni, perché siete tanti, siete un centenario, quindi probabilmente faremo dei turni in qualche modo, vi convocherò a blocchi e durante il colloquio discuteremo della, ehm, della prova e mi farete vedere dal vostro sistema gli allegati che ovviamente non potete mettere a corredo, ehm, qui per motivi di spazio banalmente. Rispondo alle domande un attimo. Allora, per acquisire del video da web useremo legalai? Sì, dovreste essere già abilitati, eh, anche se io non ho più avuto contezza della, della, del, del tipo, però io gli ho consegnato tutte le mail, quindi dovreste utilizzare legalai, oppure alternativamente un altro sistema che vi consente di acquisire in maniera corretta. Attenzione nell'acquisizione dei video di certificare o meno che l'acquisizione venga fatta in maniera corretta, che significa in maniera corretta nel caso del video documentate l'eventuale ricodifica, hm, nel senso che se c'è una qualche ricodifica necessaria per scaricare il file, se ne può fare a me, non dipende dal, 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 dal sito in cui il video è caricato, eh, nella relazione mi aspetto che scriviate che quel tipo di ricodifica non ha cambiato la, la, la qualità, ma più che scriviatelo verificate che la qualità è rimasta la stessa. Eh, quindi errande ho risposto, eh, non ho capito come calcolare il codice ASC del PDS, eh, questo è uno dei compiti che dovete fare, prendete un software che calcola l'ASC e lo calcolate e me lo scrivete lì. Eh, ovviamente, diciamo, tutti gli allegati dovranno essere, diciamo, allegati con, eh, riportando i codici ASC degli allegati, questo lo riportate nella relazione. Se utilizzate Amped, eh, utilizzate il report di Amped come allegato, ok? Eh, ci sono anche dei tool online per farlo, infatti non è, non è questo il problema. Per accedere a Legalai cosa dobbiamo fare? Ehm, ci dovrebbe essere la, eh, mi ricordo se abbiamo registrato l'intervento di, di, mi pare di sì, di De Stefani al corso, lui è dato tutte le indicazioni. Basta collegarsi al sito e, 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 e doveste essere tutti abilitati a farlo. Ora comunque chiedo conferma a De Stefani nei, nei prossimi giorni, nei prossimi giorni. Quindi ripeto, eh, avete una settimana di tempo, eh, dovete, eh, scaricare il video con le migliori pratiche possibili e raccontare nella relazione come avete scaricato il video, che cosa c'è nel video e applicare delle tecniche di image video forensics per, eh, estrarre delle evidenze, eh, scrivere le conclusioni, eh, riportare in allegato tutto quello che serve per poi, diciamo, eh, eh, per, eh, tutto ciò che serve, eh, per, eh, supporto delle evidenze che raccontate nella relazione, nella relazione. Davide Lopresti, io le avevo comunicato un cambio mail per la licenza di Amped, bella domanda, eh, devo comunicare la stessa variazione anche a, a Legalai, eh, ovviamente. Info aggiuntive, le vediamo al volo. Allora, possono partecipare alla prova solo gli studenti che hanno superato la prima prova? È fortemente consigliato l'utilizzo di Amped 5, teoricamente potreste anche farne a meno, però capite bene che diventa tutto, eh, complicato. Eh, verranno valutate in particolare la metodologia e la completezza della tecnica di analisi, utilizzo di best practice forensics, formalità e stile della relazione tecnica e della documentazione legata. Quindi, vi ripeto, non è tanto quello che trovate, cioè non, non prende di più chi riesce a estrarre le cose che magari, diciamo, a me interessa se impostate la relazione in maniera professionale e tecnica con tutti i pezzi che servono, indipendentemente dagli esiti. Ok? Poi è chiaro che se si capisce che quel filmato, la targa è possibile estrarla e voi non la estraete, eh, è un errore. Ma è anche chiaro che se poi applicate tecniche sbagliate su dei dati, eh, eh, comunque vi viene valutata negativamente. Vi ripeto, vi fornisco a breve degli esempi, eh, così voi potete avere un, un punto, eh, di riferimento. Sì, le date dei colloqui saranno decise in seguito, perché dipende da quante persone la passano la prova e, eh, ovviamente l'idea mia sarebbe quella di riuscire a finire questa fase prima del 29, che è la data dell'esame completo. Durante il colloquio, eh, parleremo solamente della relazione tecnica, sì, solo della relazione tecnica. Ok? E quindi, va bene, probabilmente durerà poco, cioè andremo a vedere la relazione tecnica velocemente, vi chiedo alcune cose sulla relazione tecnica, mi fate voi vedere gli allegati e come li avete calcolati, eh, dopodiché facciamo, tiriamo la somma, eh, della prima prova, la seconda prova, l'eventuale, eh, alibi informatico da voi fatto, eh, eh, decidiamo il voto. Quindi sarà una cosa molto, molto veloce. Spero di non perdere più di 5-10 minuti a persona. Professore, scusi. Sì. Avrei alcune domande. Ad esempio, il hash del file PDF, della consegna, lo dobbiamo inserire nel file Excel dove ci dice dei video? No, ci sarà un file Excel dedicato in cui voi dovete mettere nome, cognome, matricola, data di consegna, hash del file consegnato. Quindi sarà un file comune che potremmo modificare noi su Teams. Sì, esatto. E un'altra domanda, volevo sapere, i video da analizzare sono file che ci dà lei oppure video da trovare su web? Che questo dettaglio mi è sfuggito. No, io vi do il video. Io vi do il video e l'indirizzo in cui trovate il video da scaricare. D'accordo. Va bene, grazie. Ah, un'ultima cosa. Mi scusi. Non ne puoi fare più domande per oggi, è l'ultima. Va bene, è l'ultima. Giocatela bene. No, volevo sapere se era previsto qualche altra lezione su Ampad Authenticate, perché rispetto a Five è leggermente più complicato da utilizzare e da, per esempio, ha qualche piccolo problema perché ad esempio a me crasha quando cerco di generare un report, come abbiamo fatto per Ampad Fight. L'unico report che fa è quello smart e non capisco il motivo. Allora, Authenticate sostanzialmente non lo utilizzeremo perché come vedete come programma non ci siamo arrivati. Adesso, diciamo, in questa mezz'oretta che ci rimane accenniamo un po' a qualcosa sulla manipolazione di immagini, però diciamo non lo trattiamo quest'anno in maniera approfondita. Quindi diciamo l'analisi sarà solo di tipo su Ampad Fight. Io lo volevo utilizzare perché ho visto che è possibile utilizzarlo per analizzare i file EXIF delle varie immagini, ma essendo video… Ma il quesito qui è, diciamo, legato all'integrità, diciamo, nel senso che io verifico che effettivamente l'ho catturato e corrisponde a quello che è presente nel sito web. Sostanzialmente è questo quello che mi viene chiesto, non altro. Va bene, grazie. Ok. Allora, procediamo quindi come segue. Il testo di questa relazione, di questo quesito, lo metto online oggi stesso assieme alle slide. Creo la struttura della cartella con il file Excel in cui dovete mettere la consegna. Il giorno 12 giugno alle 11 vi spunterà questo file Excel con i vari video da poter analizzare. Oggi stesso vi metto una serie di relazioni tecniche. Spero di scegliere le migliori che possono essere di aiuto come idea della vostra relazione. Comunque noi ci vediamo giovedì per quel che riguarda il seminario Checco e Aterno che ha a che fare con il captatore informatico. E se ci sarà tempo qualcuno vuole chiedere qualche dubbio, ne possiamo parlare. In ogni caso giovedì, dopo la lezione, c'è il ricevimento studenti, sempre su Teams, sul canale, ricevimento. Quindi per eventuali ulteriori chiarimenti ne possiamo parlare lì. Va bene? Professore, chiedo scusa. Se si supera quindi la seconda prova, è poi possibile fare una cosa per aumentare il voto ancora di più, come un altro progetto ad esempio? Sì, questo è poi all'atto del colloquio, ne parliamo. Ok, grazie. Ovviamente vi chiederò un po' di pazienza successivamente in questi colloqui perché dovremmo fare per forza di cose i turni, nel senso che siete tanti e quindi io sono da solo, quindi vedremo un po' di capire come scaglionare nel tempo questi colloqui e la registrazione degli esami, però è inevitabile. Va bene, allora ultimo argomento del corso sostanzialmente è legato alla manipolazione di immagini. Manipolazione di immagini che appunto in gergo viene chiamato Digital Forgery. Questa presentazione è una presentazione abbastanza lunga che vedrete, diciamo, introduce diverse tecniche per la verifica dell'eventuale presenza di manipolazione. La maggior parte delle tecniche poi sono implementate su Authenticate, quindi chi volesse approfondire può utilizzare questa, tra virgolette, lezione e riferimenti ad essa connessa col software per approfondire, però non farà parte dell'oggetto di esame della prova in itinere, quantomeno. Ovviamente nella prova scritta completa ci potrebbero essere delle domande che hanno a che fare con questa parte. Oggi cercheremo di coprirne quanto è più possibile, comunque la presentazione completa viene comunque lasciata a disposizione per voi. Oggetto della questa lezione è il multimedia forensics che abbiamo accennato qualche tempo fa, essere appunto la scienza che si occupa di identificare e trovare le tracce legate alla manipolazione di immagini. Manipolazione che può avvenire o in fase di acquisizione, o quindi dentro la camera che ha acquisito la macchina, il dato che in qualche modo tende già a essere manipolato, oppure durante le successive fasi. Questo settore è un settore in enorme crescita e interesse da un punto di vista scientifico, culturale, giornalistico, se ne parla tanto, perché è alla base di quelle che appunto vengono a essere oggi chiamate le cosiddette fake news. Fake news che vengono affiancate da dati, da immagini visuali modificate e che di conseguenza cambiano la percezione dei soggetti rispetto a quello che stanno vedendo. Forse probabilmente questa immagine ve l'ho già fatta vedere, un semplice crop in un'immagine cambia totalmente il messaggio che l'immagine stessa trasmette. E quindi come tale è veramente importante fare in modo che ci siano delle persone, dei tecnici in grado di analizzare le immagini e fornire supporto nel momento in cui vi viene chiesto se un'immagine è o meno reale. D'altra parte esistono anche degli studi che confermano il fatto che da un punto di vista cognitivo gli esseri umani sono particolarmente sensibili a essere, fra virgolette, ingannati nel momento in cui gli si viene presentato un'immagine, perché in qualche modo la si associa a qualcosa di reale. Quindi il primo impatto su un'immagine è quello di credere a quello che sto vedendo. Immaginate appunto quanto questa problematica impatti in tutto ciò che ha a che fare appunto con la pubblicità, con i messaggi politici, soprattutto adesso che addirittura è possibile creare degli avatar con delle sembianze umane anche di personaggi famosi che propagaggiamo in pubblico, si presentano e danno a dei messaggi forbianti, che non sono quelli dei soggetti in questione. Quindi in qualche modo stiamo attenti, stiamo attenti e quindi è una disciplina veramente in forte crescita. Se fra di voi c'è qualcuno che volesse approfondire queste tematiche con delle tesi, con degli stage o proseguire gli studi anche alla magistrale per esempio, c'è veramente molto spazio. Vi faccio vedere alcuni esempi famosi che hanno ingannato, fra virgolette, l'opinione pubblica. Prima fra tutti la famosa immagine della morte di Bill Laden, il cui cadavere in realtà non è mai stato ritrovato. Però nel momento in cui gli americani hanno dato la notizia dell'uccisione, dopo qualche tempo venne pubblicata sul web una immagine che ritraeva appunto questo soldato a sinistra che si diceva essere appunto il cadavere di Bill Laden. In realtà dopo poco si scoprì che in realtà è un fotomontaggio, voi dovreste cominciare a capire che lo è e ci sono tutta una serie di indizi che lo dimostrano, quindi senza bisogno di applicare tecniche matematiche. Per esempio il fatto che la risoluzione dell'immagine in alto rispetto a quello che viene in basso è diversa. Sotto l'immagine appare sfogata, sopra appare molto definita. Poi c'è una fortissima somiglianza con quest'altra immagine che è stata trovata sulla rete dopo poco tempo, in cui non solo la pose è la stessa della parte bassa, ma il dettaglio che più ha poi portato inizialmente i sospetti, verso il fatto che si potesse trattare di un fake, era il riflesso del flash sull'orecchio che era esattamente nella stessa posizione, che è una cosa molto particolare. Alla fine il tutto venne scoperto trovando in rete la foto di un altro soggetto che era il vero soldato ucciso da qualche parte, da cui si è capito che la parte superiore era stata presa da questa immagine e quindi era stata a tutti gli effetti una composizione vera e propria, un cut and paste con un minimo di rifacimento dei colori e quindi probabilmente il cadavere di Billaden, chissà che fine ha fatto, non era quello giusto. Vi dicevo che la disciplina è particolarmente complessa e qui vedete una tossonomia che partendo dalla digital forensics mi descrive in dettaglio che cosa noi andiamo a studiare, perché partiamo da digital forensics e sotto a digital forensics ci sono tutte le varie discipline che in parte abbiamo accennato anche durante il corso. A un certo punto troviamo la multimedia forensics che si distingue a sua volta in immagini, video, ma anche audio. In questo corso non abbiamo avuto modo e tempo di parlarne, però c'è tutta l'audio forensics che è tutta una disciplina attuale con le sue peculiarità. Nel caso delle immagini possiamo a sua volta distinguere tre filoni, quello in cui andiamo a cercare la sorgente, cioè cercare di capire dall'immagine se, e adesso ne parliamo, riusciamo a capire solo analizzando i pixel dell'immagine o i suoi metadati, l'origine di acquisizione, la sorgente di acquisizione, che questo può essere un elemento fondamentale in un'indagine, oppure andare a verificare la sua integrità, cioè il fatto che il file sia stato modificato nel tempo dopo l'acquisizione e in quel caso come? Trovando l'eventuale forgery, detection, e addirittura, cioè detection significa dire se è stata modificata e nel caso lo è stata, un ulteriore problema potrebbe essere localizzare esattamente il punto nell'immagine in cui la forgery è stata aggiunta. E poi infine abbiamo la counter forensics, che sono tutte quelle tecniche che cercano di ingannare le tecniche di detection della forgery. Anche lì un altro filone abbastanza interessante. Che significa identificare il device, che è la prima dei quesiti di questo mondo, e riuscire a capire se un'immagine è stata acquisita da una webcam, piuttosto che da un telefonino, piuttosto che da uno scanner e così via. Quindi immaginiamo di non poterci fidare quantomeno dei metadati presenti in un'immagine, il quesito in questione cerca di farci capire se è un'immagine come essere acquisita, se è una ricattura di un'immagine su uno schermo e così via. Un altro livello è quello che invece ci porta a identificare, sempre lavorando sui pixel, qual è il modello che ha acquisito un'immagine particolare, ok? Perché questo modello può essere a sua volta rilevante. Qui per esempio abbiamo una carrellata di immagini della stessa scena acquisita con diversi modelli di iPhone, ok? Vedete che esistono delle differenze, tra virgolette, cromatiche ed è su queste che l'analista e gli algoritmi si vanno a attaccare per individuare le differenze. Infine, anche all'interno dello stesso modello, si cerca di capire, ed è possibile farlo, spero che ci arriviamo, perché è veramente una delle cose che funziona veramente, a identificare la camera. Cioè io posso, dato un certo numero di esempi, di immagini acquisite da una camera, se un'immagine nuova che mi arriva è stata acquisita con una camera piuttosto che un'altra, ok? Quindi non tanto sul modello, ma sulla specifica camera, cioè se io anche avessi due modelli dello stesso telefono, riuscire a capire se l'immagine è stata acquisita dall'uno piuttosto che dall'altro. Capite quando questa cosa può essere importante in alcune indagini di natura anche penale, ok? Da un punto di vista generale, modificare un'immagine significa cambiarla in qualche modo. La si può cambiare da un punto di vista generandola completamente artificialmente, oppure cambiare qualcosa al suo interno. Cambiare qualcosa che può significare, cambiare il contenuto, ok? O in alcuni casi mantenere il contenuto, ma fare apparire l'immagine in un contesto differente. Abbiamo visto prima l'esempio del soldato, l'immagine è la stessa, ok? C'era semplicemente un cropping che però faceva cambiare l'interpretazione. Questi sono i metodi che in qualche modo in questa presentazione verranno raccontati, alcuni ci arriveremo a farli, altri, vi ripeto, ve li lascio qui, molti si basano sull'analisi dei metadati e del standard JPEG. C'è proprio l'algoritmo di compressione JPEG di cui noi abbiamo accennato e che adesso riprendiamo, ci consente di verificare se sono presenti delle tracce anomale che sono possibili, che solitamente sono presenti quando l'immagine, per esempio, è stata doppiamente compressa. Perché una delle pipeline tipiche della manipolazione è quella che io prendo un'immagine che è già in JPEG, perché le immagini tipicamente sono in JPEG, ne modifico una parte, quindi incollandoci qualcosa, cancellando qualcosa, esistono mille strumenti per poterlo fare, applicando dei filtri, tagliandolo, eccetera, eccetera, e poi la ricomprimo, perché la devo risalvare. Questa seconda compressione fa sì che l'immagine in qualche modo venga modificata e allora io analizzando questa immagine modificata posso capire se c'è dietro un'unica compressione, due compressioni, più compressioni, se la struttura del JPEG è mantenuta, quindi esistono tutta una serie tecniche che analizzano questa cosa qua. Molto si fa analizzando i metadati, vediamo un po' dove arriviamo. Iniziamo con le immagini di natura artificiale, che inizialmente erano e sono, Ausilia Costa, qualora si facesse l'esame completo? Il progetto fatto per la prima prova rimane valido al fine di aumentare il voto finale? Cos'è il progetto fatto per la prima prova? La prima prova era... no, 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 quella non viene valutato. Viene valutato comunque l'alibi informatico se l'avete fatto, però la prima prova no. Riuscite a distinguere fra queste immagini quali sono quelle reali e quali sono quelle elaborate da un software di computer graphics. A prima vista sembrerebbe ovvio, nel senso che uno, diciamo, è portato a decidere in maniera scontata. In realtà vedete che non è così ovvio. Cioè, per esempio, questa che sembrerebbe reale, quella che inganna un po' tutti, è realizzata da un sistema di computer graphics proprio perché c'è qui dentro un riflesso fatto apposta per fare l'assemblea reale. Altre invece sono completamente realizzate da sistemi di computer graphics. Oggi esistono i deepfake, e qui ne abbiamo alcuni esempi, immagini totalmente artificiali che assumono un realismo veramente importante. veramente importante. Quindi c'è tutto un filone, forse avremo anche accennato, che si occupa proprio di questo fenomeno. Soprattutto nel caso dei volti umani, riuscire a distinguere un volto reale da un volto generato al computer. Altri esempi, non so se al solito non penso che riuscite a sentire l'audio. Vediamo un attimo se riesco a fare partire anche l'audio. Anche se non credo. Vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Vediamo nulla, però, in questo momento. Allora, vediamo. Ok. No. Vediamo un attimo. No. Allora, l'audio di sistema sono riuscito a condividerlo. Aspettate che adesso vi... Allora, uno e due. Allora, questo è un video che è stato pubblicato sulla rete qualche anno fa di quest'aquila che prova a catturare un bambino. Allora, se siete riusciti a vederlo, fondamentalmente. Allora! Allora, in questo modo? Allora, è la città. Allora, allora, allora! Allora... Vivo. Allora! Grazie a tutti. E' un video che ha a che fare appunto con un fake, a tutti gli effetti, in cui si era generato questa animazione ed era proprio un progetto di un corso di laurea in animazione 3D e design digitale. Gli stessi autori a un certo punto, dopo il clamore che il loro video aveva suscitato sulla rete, hanno dichiarato appunto che l'avevano creato apposta. C'erano effettivamente da un punto di vista tecnico alcune anomalie, però effettivamente era molto di impatto. Se lo potete cercare in rete, insomma, lo troverete ancora. Altri esempi, adesso facciamo una carrellata, diciamo, di esempi, sono stati quelli che nel tempo hanno, soprattutto, sono stati utilizzati in ambito politico. Questo è un esempio in cui l'immagine di sinistra è stata pubblicata dopo un attentato in Egitto, dove in realtà l'acqua è stata colorata di rosso per dare proprio l'idea del sangue. Ma in realtà, diciamo, era questa l'immagine originale. Altri esempi in ambito politico, ok? Un fotomontaggio in cui Saddam Hussein e Clinton si stringevano la mano. Ancora, diciamo, anche da un punto di vista storico, ne esistono veramente tanti esempi di questo tipo. Questo pare che sia una delle primissime immagini taroccate, nel dominio analogico. L'immagine di sinistra è l'immagine passata alla storia di Abraham Lincoln, che è il primo, uno dei primi, forse il primissimo dei presidenti americani, con questa sua posa fiera, che è passata alla storia. In realtà il corpo di questa fotografia non era di Lincoln, ma era di quest'altro soggetto. Quindi la foto che è passata alla storia è un fotomontaggio in cui abbiamo la testa di Lincoln, ma il corpo di quest'altro politico, che era John Calhoun. Senza bisogno di software digitali. Durante la guerra, prima e seconda guerra mondiale, e anche qui senza bisogno di avere strumenti digitali, i politici, soprattutto i dittatori, si divertivano ad eliminare i nemici o quelli che diventavano nemici politici fisicamente, prima, e poi anche dalla storia, cancellando la loro foto, nei vari, diciamo, le varie fotografie pubbliche, utilizzando dei soggetti specializzati in questo tipo di operazioni, che cancellavano fisicamente col pennello, le immagini in bianco e nero, il soggetto, e quindi realizzando delle tecniche di correzione manuali. Devo dire, anche abbastanza pulite, no? Vedete? Qua appare semplicemente un piccolo alone, dove c'era presente questo soggetto, o qui pure, insomma, vedete, qua un minimo di distorsione, forse si intravede, però, diciamo, la qualità era tale, per cui questo tipo di operazione si poteva fare abbastanza bene. Anche in Italia sono presenti degli esempi di immagini storiche, in cui, per esempio, Mussolini fece scomparire dal tizio che gli teneva il cavallo. Recentemente ci sono state polemiche in America rispetto all'enfatizzazione del colore della pelle di alcuni soggetti. Questo è O.J. Simpson, che era un soggetto che qualche anno fa compie un omicidio importante. E poi esistono tutta una serie di esempi nell'ambito delle gare di fotografia, in cui, insomma, per esempio in questo caso qua, questa foto, che era una foto che inizialmente aveva vinto un premio importante nel World Photo Press, che è uno dei, diciamo così, campionati mondiali della fotografia, in realtà era stata ottenuta facendo il montaggio di due foto differenti. La prima c'era il soggetto con la mano stesa, che voleva avere un significato, però, diciamo, il padre col bambino stava portando da un'altra parte. Nella seconda invece c'era l'inquadratura corretta rispetto a una possibile scena, ma il soldato aveva una cosa diversa, e quindi il fotografo, diciamo, ha pensato bene di fondere le due scene, però, diciamo, questa cosa gli ha… da un lato gli ha fatto vincere prima il premio, poi dopo, nel momento in cui si è scoperto, ha tirato fuori alcune problematiche rispetto a questa cosa. Giusto per essere un po' più tecnici, trovate qui ancora tutta una serie di esempi su queste cose che possono essere interessanti. Che cosa noi dobbiamo e possiamo fare su un'immagine per analizzarne i contenuti? Allora, innanzitutto dobbiamo andare a fare una distinzione fra quello che succede oggi e quello che succedeva in tempo. Nel senso che, in passato, prima della fotografia digitale, i negativi, tra virgolette, in qualche modo venivano a essere rappresentati come delle forme di attendibilità massima della fonte di prova. Anche qui, volendo essere precisi, c'erano già le possibilità di manipolare immagini analogiche, in qualche modo. Però, tendenzialmente, siccome era una cosa particolarmente complessa, non la si riteneva possibile. Non la si riteneva possibile. Per cui, tendenzialmente, una fonte di prova analogica veniva dichiarata quasi sempre lecita. Invece, con l'avvento delle fotografie digitali, proprio per la semplicità con cui, anche con un semplice smartphone, è possibile modificare i contenuti, si tende a essere molto più cauti. Quindi, gli addetti ai lavori tendono a richiedere, qualora nascesse il dubbio, una certificazione di integrità o di non manipolazione delle immagini che diventano fonte di prova. Nel caso delle fotocamere digitali, esiste l'analogo del negativo delle foto analogiche? Nel senso che noi abbiamo tutta una pipeline di elaborazione, in cui la luce entra all'interno della macchina, c'è un sensore. Questo sensore viene, in qualche modo, colpito dalla luce che arriva dall'esterno. Esistono queste cellette che vengono caricate dalla luce che arriva dall'esterno e da lì parte un insieme di algoritmi che creano l'immagine finale. Quindi, in qualche modo, non esiste una vera e propria matrice originale. Cioè, anche quando noi andiamo a estrarre da una macchina i cosiddetti RAW, e qui nelle slide trovate tutta una serie di esempi sulla modifica dei negativi, ma nel nostro caso, anche quando noi andiamo a estrarre il formato RAW delle macchine fotografiche digitali, in realtà, una qualche elaborazione all'interno della macchina, per forza di cose, è avvenuta. Quindi, in realtà, non esiste un vero e proprio negativo che ci garantisce che l'immagine è integra. L'immagine sarà integra quando non esistono, diciamo, tracce di possibili alterazioni. Quindi è tutto coerente rispetto a quello che ci rispetta. che ci rispetta, sia a partire dai metadati, sia a partire a quelle possibili tracce che hanno a che fare col processing che avviene dentro la macchina, dentro la macchina. Vi dicevo prima che la modifica dei sistemi, delle fotografie, è in qualche modo, nasce con la fotografia stessa. Addirittura, abbiamo trovato in giro questo libro, degli anni 50, credo, sì, nel 1946, che era un vero e proprio manuale di ritocco, di fotoritocco, da eseguire in maniera analogica sulle immagini. Quindi, queste sono proprio delle illustrazioni di questo libro, in cui si racconta come, vedete, fare il photoretouching per uso commerciale. E ci sono tutti i trucchi su come procedere. Ovviamente le foto, la maggior parte, erano foto, in qualche modo, cioè di partenza, di scarsa qualità, per cui, diciamo, l'eventuale aggiunta manuale di qualcosa non veniva ben individuato. Però ci sono tutta una serie di tecniche per poterlo fare. Dal nostro punto di vista ci servono però informazioni tecniche, è un, è un, da, da, dall'inizio del corso che diciamo che dobbiamo essere rigorosi. E allora come fare? Anche in questo caso, andiamo a cercare delle linee guida che ci dicono che cosa l'esperto digitale può mettere su per verificare che cosa. E questo è importante. La cosiddetta authentication. Quindi, l'authentication nell'ambito dell'immagine forense consiste nell'applicare la scienza legata alle immagini, quindi un metodo scientifico, e l'esperienza di dominio, ecco perché servono i tecnici, per rispondere al quesito relativamente al fatto che un'immagine o un video corrisponda a un'accurata rappresentazione del dato originale. Quindi significa che un'immagine la consideriamo autentica quando rappresenta qualcosa che è conforme, ok, al contenuto dei dati originali. Quindi significa che ha potuto subire delle modifiche, ma queste modifiche non hanno avuto impatto sulla interpretabilità dei dati. per cui di per sé, lo dice la stessa definizione, un semplice formato, cambiamento di formato, non impatta sul contenuto. A meno che il cambiamento di formato non codifica con una conversione così forte che mi fa scomparire il contenuto. Quindi è una definizione un po' difficile poi da mettere in pratica, ma che però già porta in sé il discorso del contenuto, ok? In qualche modo si dice che un'immagine è autentica quando è stata acquisita simultaneamente con gli eventi che vuole registrare, ok? Ed è completamente consistente con i metodi di registrazione dichiarati dalle parti. Cioè se un'immagine arriva che è stata acquisita, e si viene detto dalle parti che è stata acquisita col telefono Samsung Galaxy Note S10 in data X con quelle condizioni, e il tecnico verifica che tutte le tracce e tutta, diciamo, la conformazione del file, tutti, diciamo, ciò che si può estrarre da quell'immagine è coerente con quel tipo di acquisizione, a meno che non ci siano artefatti non spiegabili, continua a essere autentica, ok? Quindi il primo problema che va analizzato è la differenza fra file originale e file integro, ok? A noi non interessa che il file sia originale o integro, se lo è meglio, però ci interessa che non sia stato modificato in qualche modo alterandone il contenuto, alterandone il contenuto. Un primo metodo banale per farlo è quello di analizzare i metadati o gli exis. Questa che vedete qui è una schermata di authenticate in cui si mettono a confronto i metadati presenti in due immagini, una tipica del dispositivo di cui vogliamo carare l'effettiva acquisizione e un'altra, diciamo, di cui non sappiamo da dove è stata acquisita. Se però questa immagine ci viene detto che è stata acquisita con lo stesso dispositivo, tendenzialmente, in questo caso era un Nexus 4, ok, un Nexus 4, i metadati devono essere uguali, ok? Il software, in questo caso, ci aiuta nell'identificare in maniera veloce, identificandoci in rosso, l'eventuale presenza di metadati differenti. Per esempio, in questo caso c'è un'evidenza, c'è un warning che ci viene segnalato che ci dice che questa immagine a destra, che è quella che stiamo utilizzando, di cui vogliamo conoscere la provenienza, non presenta il thumbnail. Adesso vi dirò cos'è il thumbnail. Il thumbnail è una versione ridotta dell'immagine codificata dentro l'immagine stessa, per la preview, ok? Che ci fa sospettare che c'è qualcosa che non va, ok? Dopodiché ci possono essere altre evidenze, quindi vanno, scusate, vanno viste nel dettaglio, però diciamo tendenzialmente la struttura degli EXIF deve essere coerente. La struttura degli EXIF deve essere coerente. Considerate pure che gli EXIF contengono anche informazioni legate alle modalità di calcolo delle tabelle di codifica del JPEG, quindi anche su quelle diventano un parametro importante. Authenticate ci aiuta nel cercare, nell'individuare ulteriori immagini acquisite da quei dispositivi, facendo lui stesso una richiesta in rete per cercare sui vari repositori pubblici se esistono degli esempi di foto catturate col dispositivo che io voglio testare, in maniera tale da capire se effettivamente ci sono delle differenze anche sui metadati di partenza. Ovviamente in generale noi siamo interessati a avere un file originale, perché se il file è originale in qualche modo questa cosa mi implica il fatto che l'immagine sia originale non sia stata modificata. Nel momento in cui dimostriamo che non lo è, è vero che ciò non significa che sia stata alterata, però mette in dubbio il fatto che magari lo è stata. Quindi ovvero è possibile avere immagini originali è sempre meglio. Ma quali sono le operazioni che a noi interessa riuscire a scovare? Sono tutte le operazioni che hanno editato l'immagine. Ce ne possono essere sicuramente di innocenti, come appunto quelle legate principalmente alla modifica cromatica, quindi per renderle più belle, diciamo così, no? Tra questi inizierei pure i filtri di Instagram o vari filtri che tentano di migliorare l'immagine. Poi però ci sono quelle maliziose, quelle maliziose che invece realizzano operazioni più antipatiche, quelle che appunto sono il copy move, cioè copio qualcosa e lo muovo sull'immagine, copia e incolla, cropping aggressive, o in generale tutto ciò che altera, quindi aggiunge o rimuove informazioni di qualche tipo. Gli approcci più interessanti, lato forensic, non sono quelli per cui, come si potrebbe pensare, io aggiungo del segnale all'immagine, ok? E poi vado a cercare se all'interno dell'immagine ritrovo quel codice. Questi sono dei cosiddetti approcci attivi. Questi approcci attivi nel tempo si sono dimostrati essere poco robusti, perché diciamo anche se il mio dispositivo aggiunge di nascosto un qualche segnale che dovrebbe servire poi per valutarne l'integrità, in realtà è facilmente attaccabile. Quindi tutti i metodi che noi utilizziamo nel nostro ambito hanno a che fare con i cosiddetti metodi passivi. Passivi significa che agiamo a posteriori e andiamo a cercare esempi di tracce, di possibili manipolazioni, ok? Come dicevo, purtroppo il tempo è tiranno, però la cosa che voglio, almeno questa ve la voglio raccontare, qui trovate tutto un esempio di possibili strategie da utilizzare per autenticare un'immagine, ok? Vi voglio raccontare esattamente come lavora l'algoritmo di stima della sorgente, ok? In questo caso siamo nell'ambito dei cosiddetti metodi camera-based, cioè sono dei metodi che verificano se l'immagine è stata o meno manipolata, perché cercano in qualche modo in analogia a quanto avviene con la balistica, di individuare tutti gli artefatti che devono essere presenti se quell'immagine è stata acquisita da quel particolare dispositivo, ok? Quindi se io mi studio nel dettaglio come ogni singola camera acquisisce le immagini, all'interno dell'immagine devo trovare tutti quegli artefatti tipici di quegli algoritmi particolari. Nel dettaglio quello che a me interessa è raccontarvi qualcosa sul quello che fino adesso c'è stato, io vi ho raccontato essere sempre un problema, cioè il il rumore. Nel nostro caso adesso diventa un un dettaglio importante. Scusate un attimo. Vediamo se lo recuperiamo quello che è il cosiddetto metodo di identificazione della camera, ok? In pratica noi quello che andiamo a fare è andiamo a andiamo a recuperare una fingerprint, tutti gli effetti, un'impronta digitale del sensore specifico della camera e come come funziona? Funziona praticamente andando ad analizzare scene che a prima vista sembrerebbero identiche, ok? Ma che però analizzando solamente i pixel riusciamo a caratterizzare nel dettaglio, ok? Qual è la 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 fonte oggi di questa di questa cosa? È il l'approccio basato sul rumore, ok? in pratica quello che succede è che ciascun sensore qualunque esso sia in fase di acquisizione introduce un rumore invisibile all'utente che però è caratteristico di quella camera, ok? Quindi questi metodi basati sul rumore che cosa fanno? Cercano di estrarlo e tirarlo fuori in qualche modo, ok? come si procede? Si procede eliminando tutti i tipi di rumore legati all'ambiente, alla luce, eccetera, eccetera e isolando il rumore in situ e specifico del sensore. Per poterlo fare che cosa si fa? Si applica una tecnica che è molto simile a quella che noi applichiamo nel caso della dell'integrazione, ok? Vi faccio vedere direttamente l'algoritmo. Prendo un'immagine, un set di immagini, ci applico un qualche algoritmo che riduce il rumore, diciamo, a quel punto mi prendo il rumore che ho estratto da ogni singola immagine, ok? Anziché buttarlo, che cosa ne faccio? Ne faccio un'integrazione. Perché questa integrazione è importante? perché se io integro questo segnale, ok? Quello che succede è che tutto il rumore che ha a che fare con fluttuazioni random, facendone la media scompare, ok? Quello che rimane è il pattern legato al sensore che è presente in tutte le immagini. A questo punto, questa immagine che dal punto di vista visivo a me non mi dice nulla, può essere utilizzata nel momento in cui io ho una nuova immagine e devo farne una correlazione matematica fra il suo rumore e quello calcolato sull'insieme di immagini di partenza. Questo algoritmo funziona abbastanza bene. Lo stesso Authenticate vi consente, qualora, diciamo, ci volesse giocare, di dargli in pasto una serie di immagini acquisite col vostro dispositivo, per esempio, dal quale lui si calcola la fingerprint e poi preso una nuova immagine vi applica questa tecnica e vi dice se c'è correlazione tra quel rumore e il rumore di partenza. Quindi, sfruttando una fingerprint a tutti gli effetti del sensore, riusciamo a caratterizzare la provenienza della camera di acquisizione. Questo strumento funziona molto bene per le immagini, un po' meno sui video. Funziona un po' meno sui video perché? Perché i video di per sé sono tipicamente fortemente compressi. Quindi, comprimendo il segnale, come abbiamo visto anche noi, io ammazzo, diciamo, quindi codifico molto forte, in maniera molto forte le alte frequenze, compreso il rumore e quindi la traccia legata al rumore del sensore spesso viene buttata via. Quindi, come vi dicevo, in questa presentazione troverete molto, molto altro, comprese anche delle referenze. Io comunque ve la lascio tutta sul sito. però, diciamo, non abbiamo tempo di approfondire. D'altra parte, diciamo, il corso è stato anche abbastanza intenso. Abbiamo fatto, nonostante l'esperienza online, credo che siamo riusciti comunque a ottenere un buon risultato. Abbiamo affrontato diversi argomenti, abbiamo avuto anche ospiti esterni, quindi, insomma, in qualche modo penso che possiamo ritenerci soddisfatti. Adesso, quindi, come vi ripeto, ci rimane il seminario di giovedì a cui vi invito perché sarà particolarmente importante e poi, diciamo, andremo avanti con gli esami e con la prova in itinere. Quindi, formalmente, oggi finiamo le lezioni con me. Ce l'abbiamo fatta, le varie alla fine. Spero che, diciamo, siamo riusciti comunque a farlo, questo corso, diciamo, più o meno, nonostante le difficoltà. Quindi, ci vediamo tutti poi agli esami per i colloqui. Arrivederci. Grazie.